La Svezia schiera carri armati da combattimento e soldati per pattugliare le strade dell'isola di Gotland nel Mar Baltico in risposta alla crescente attività russa nella regione. Una decina di veicoli corazzati da combattimento e dozzine di personale armato circolano nella piccola città portuale di Vesby, sull'isola strategicamente situata. La mossa arriva dopo che tre navi da sbarco russe sono entrate nel Mar Baltico attraverso lo stretto danese del Grande Belt e nel mezzo di crescenti tensioni tra Russia e Nato. Le potenze occidentali accusano la Russia di aver dispiegato carri armati, artiglierie e circa 100.000 soldati sul confine orientale dell'Ucraina, in quella che la Nato dice essere la preparazione per un'invasione.